dei gruppi che hanno fatto della musica uno strumento di socializzazione, uno strumento di comunicazione per cui accogliamo il primo gruppo musicale, loro sono gli Ulma Live e rapisco subito la rappresentante, la portavoce del gruppo quindi Paola Cristofaro che è una delle fondatrici insieme ad Andrea Siripo di questo gruppo siete affrancati oltretutto da Marco Paparazzo alle chitarre, Ferruccio Clodomiro al basso e Antonio Palai alle tastiere voi fate un repertorio meraviglioso, frizzante, energico, che fa bene alla salute iniziamo subito in modo energico questa serata I feel good, I'm new than I want now I feel good, I'm new than I want now So good, so good, I love you I feel good, I'm new than I want now I feel good, I'm new than I want now I'm new than I want now So nice, so nice, and you Alla prossima Il suo genio spazio So nice, so nice, I got you So nice, so nice, I got you So nice, I got you You Sunny Yesterday my life will feel me right Oh, Sunny You smile at me and win It's the play Oh, there's a circle There's a circle, there's a circle There's a circle But Sunny wants some songs and sing Someone wants to dream I love you Sunny Thank you for the sunshine You glow Oh, Sunny Thank you for the love You blow my way Oh, you get to me You own it all Now I feel Every time That's what's the truth Oh, I love you Thank you I call you I need you My hands on fire Come to me, come to me And you wonder why When you came to me Give me everything I need Give me lots of lives In a world of dreams So I believe I won't lie Better than anyone You sleep when you were to when You told me You wouldn't let me You're Rachel Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.